In perversa in questi giorni in particolare la polemica sui biglietti omaggio ricevuti soprattutto da politici, loro amici e familiari per accedere agli spettacoli dei cartelloni estivi allestiti dalle pubbliche amministrazioni delle nostre città. Sono tanti e le critiche sono feroci e amplificate dai social. Non si salva nessuna città, nessuna amministrazione di qualunque colore politico. E inoltre una polemica che si ripete ogni anno con gli stessi argomenti e le stesse accuse. Si tratta di malcostume? Certamente sì. Espressione di un potere il più delle volte pezzente? Purtroppo sì. I cittadini devono rassegnarsi a questo andazzo? Certamente no. E fanno bene a denunciare il perpetrarsi di questo malcostume. Basta pensare a cosa si scatena per la star indiscussa del biglietto omaggio, quello per le giostre del Luna Park della festa patronale. Va detto che qualche sindaco ha anche tentato di arginare il fenomeno ma con scarso successo, visto che i canali per ricevere i biglietti incriminati sono diversi e di fatto incontrollabili. Quindi l'andazzo è questo. È stato così? È così? Presumibilmente sarà così. Giusto protestare anche con vehemenza? Assolutamente sì. Purché non si cada nella più becera demagogia. Noi non fingiamo di camminare sulle acque, non sopportiamo chi finge di farlo mentre affonda sino al collo. E con il così fan tutti non assolviamo qualunquisticamente assolutamente nessuno. Però sentiamo il centrodestra di Trani contestare alla maggioranza di centrosinistra di Bottaro. Le stesse cose che il centrosinistra di Barletta contesta alla maggioranza di centrodestra di Cannito. Ad Andrea stesso andazzo, il centrodestra contesta alla Bruno, dimenticando quelle che ricevevano quando in maggioranza c'erano loro. Insomma, anche in questa polemica bisognerebbe chiedersi se si hanno le carte in regola e nella stragrande maggioranza dei casi la dignità per farla. Il caso più clamoroso di bassa demagogia sarebbe quello di un consigliere di Andrea che ha fatto sapere di aver regalato i due biglietti omaggio ricevuti, salvo apprendere dal web che i beneficiari del generoso gesto sarebbero stati i suoi genitori regolarmente presenti al concerto di Piovani a Castel del Monte. L'interessato non ha smentito e quindi dobbiamo porci una domanda che può apparire brutale ma è necessaria. Il consigliere filantropo è consigliato male o è proprio fesso lui?